Maxi Stecco, la nuova golosa merendina motta. Ehi, l'hai provata la nuova merendina con lo stecco? Provata? Provata, cuccata, mangiata, piaciuta. Troppo buona. Maxi Stecco Motta, la merendina con lo stecco. Solo con le merendine motta hai regali American System. Fino al 31 dicembre. E questa cos'è? Ginnastica orientale, la circolazione migliora e la mente è più leggera. I propositi di leggerezza sono i benvenuti. Hanno meno grassi. I benvenuti, i frollini nuovi preparati con lo yogurt. Per darti meno grassi e un gusto unico. A colazione, benvenuti i benvenuti. Con lo yogurt meno grassi. Mangia sano, torna alla natura. Con un mulino bianco varilla. Ma basta, è brutto! Tenerone. 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 Magia Koffler by Zaini. Ciao! Sei... Sei nuova? Mmm, cosa stai mangiando? Un panino? Mmm, mmm. È dolce. È molto buono. Ma... Domani facciamo di nuovo merenda insieme. Morbido come un panino dolce, con tanta crema preparata con yogurt alla frutta. Yogorol mulino bianco. La merenda con una marcia in più. Yogorol mulino bianco. Chi mangia sano, trova la natura. Vuoi un cioccolatino un po' tenero, un po' croccante? Chiama Golov. A colazione, un cracker. Ah, ma è dolce. Bisco Crack Pavesi. La leggerezza del cracker. La dolcezza del biscotto. Bisco Crack Pavesi. L'unico cracker dolce. Pavesi, per gente piena di vitalità. Nella vetrina delle bontà, un dolce mondo c'è. Cioccolò, che tentazione. È un momento di felicità. Gira, gira il cioccolato. L'acqua crema ti sorprenderà. Motta, voglie, tutte le voglie. Merendine Motta. La vetrina delle bontà. Non essere così crudeno. Però tutto quello che mi dirai. Non ti credo. Se mi ami, slegami. Solo per un minuto. Lo sai che ti amo. Tu ami esagerare. E non ti sai controllare. Ti supplico, un altro tango e poi basta. Ti prego. Findus ha creato tango. Il primo croissant caldo con irresistibile ripieno e gelato. Solo un morso. Ma non ti snega. Tango, per gli amati del croissant e i maniaci del gelato. Frullato. Un altro. Con Chiquita non si sbucciano solo banane. Chiquita, il frullato da passeggio. Svegliarsi è un problema. Alzarsi è uno shock. No, a quest'ora non parlatevi di mangiare. Per loro è nata Yogo Brios Ferrero. Lo yogurt nell'impasto. Il gusto di marmellata e yogurt nella farcitura. Se il risveglio è duro, è nata la colazione morbida e semplice. Yogo Brios Ferrero. La colazione di quelli che non facevano colazione. Il risvero è stato un sogno di